LG Black Traction serve come luci da gomma ma anche caratteristiche tecniche per il mantenimento di profili in gomma. Quando decade non lascia residui come i siliconi, resiste ai lavaggi i detergenti aggressivi e una lunga durata d'effetto. Si può partire subito dopo l'applicazione perché non sporca la carrozzeria. Se vogliamo ottenere un effetto opaco basta passare con un panno. Passiamo con un panno e si opacizza leggermente, si può aspettare qualche minuto e si opacizza ancora di più rimanendo comunque nero quando decade. È utile per il mantenimento estetico e tecnico dei profili in gomma. Subito è idrorepellente e diventerà asciutto al tatto terminato l'assorbimento.